cari amici benvenuti a un altro dei nostri incontri alla radice della natura e proseguiamo oggi con l'argomento che abbiamo trattato ieri che tratteremo adesso per qualche giorno per un argomento talmente grande talmente importante talmente coinvolgente ogni persona del bambino all'anziano che vale la pena dedicare tutta una serie di nostri incontri a questo problema che è lo stress. Abbiamo parlato ieri di come è stato scoperto lo stress, di come è stato definito lo stress, abbiamo capito anche che è un momento di adattamento dell'organismo che potrebbe anche essere positivo, abbiamo visto che esiste uno stress e un stress che non porta grandi conseguenze, uno stress invece della frustrazione, della sconfitta che porta invece a dei notevoli malanni a tutti i livelli non solo fisico, psicologico e così via. Vediamo quali sono i, cerchiamo di capire quali sono con precisione gli effetti dello stress per esempio sul piano psicologico. La persona affetta da stress, stressata, incomincia ad avere dei disturbi del sonno, farà fatica ad addormentarsi, si sveglierà frequentemente, si sveglierà prima il mattino, sarà irritabile, avrà una concentrazione difficile, inizierà ad avere una cattiva memoria perché lo stress danneggia proprio quella regione anche del cervello che è l'ipocampo in cui c'è la sede della nostra memoria e avrà anche un umore variabile perché stress vuol dire mancanza di equilibrio, quindi questo sul piano psicologico. Sul piano fisico vedremo i classi disturbi gastroenterici, quante volte si parla di gonfiore addominale, di diarrea, di stipsi e quante volte si prendono farmaci per questo quando in realtà queste sono chiaramente molto spesso manifestazioni psicosomatiche. Analogamente le palpitazioni, l'ipertensione arteriosa, la sudorazione, alcune volte anche la febbre, il mal di testa, le tensioni muscolari, la famosa fibromialgia, tutte manifestazioni queste legate allo stress. Ma anche sul piano sociale delle relazioni interpersonali possiamo avere delle conseguenze molto importanti legate lo stress perché sul piano sociale tenderemo, l'uomo stressato tenderà a isolarsi e in questo isolamento spesso tenderà a consumare tabacco, alcol e anche droghe. È proprio una conseguenza diretta dello stress. Il tabacco abbiamo visto nei giorni scorsi e in generale l'alcol e le droghe che si assumono spesso per compensare il disagio psicologico e fisico conseguenze dello stress. E poi naturalmente ci sarà una minor resa sul lavoro, quindi avremo poi anche eventualmente dei problemi anche sul piano lavorativo, quindi dobbiamo stare molto attenti a non entrare in questo vortice. Ci sono tutta una serie di esperimenti che hanno provato che le malattie psicosomatiche, che sono moltissime, sono legate allo stress. Anche malattie che noi pensiamo non essere correlate. Faccio un esempio per tutte, l'osteoporosi. L'osteoporosi tutti pensiamo che quando dici prendo il calcio e non mi viene l'osteoporosi. No, in realtà prendo la vitamina D e non mi viene l'osteoporosi. No, ecco ricordiamoci che lo stress stimola la leptina, la quale è un ormone che va poi ad avere un influsso importante sul ipotalamo, la quale stimola poi a sua volta a livello ipotalammico della midulla solenale l'adrenalina e non l'adrenalina e queste sostanze prodotte in corso di stress vanno a influire su una sostanza, su una sostanza molto specifica che è l'osteocalcina, vanno a inibire l'osteocalcina e a determinare l'osteoporosi. Quindi vedete c'è questo rapporto molto stretto anche con malattie che noi non pensiamo quali per esempio l'osteoporosi tramite questa azione su questo metabolito molto importante che è l'osteocalcina. Quindi vedete come sia importante per poter poi vivere una vita serena in famiglia, sul lavoro, non farci prendere globalmente dallo stress. Ed è anche importante che noi sappiamo che lo stress non colpisce tutto allo stesso modo. Ogni persona, c'è una famosa curva di Dotson si chiama, ogni persona ha una sua momento di rottura. Quindi ieri abbiamo parlato del ponte Morandi, ma qualsiasi ponte poi a un certo punto si rompe nel tempo, ma è quello si è rotto prima, però qualsiasi struttura prima o dopo cede. Quindi ogni persona ha un suo diverso limite, una sua diversa capacità di adattarsi allo stress, però a un certo punto c'è sempre per tutti il momento di rottura, il momento in cui lo stress diventa molto nocivo sull'organismo. Naturalmente questo dipende da cosa? Dipende dall'età, dipende dalla situazione fisica e psichica dell'individuo, dipende dalla costituzione di cui abbiamo parlato e parleremo ancora molte volte, dipende anche dalla situazione energetica, da quant'è l'energia specifica dell'organismo in relazione alla sua alimentazione e così via. E poi c'è un'altra cosa anche interessante che a seconda del modo in cui il soggetto reagisce, a seconda proprio della sua struttura psichica, potremmo avere, e direi anzi meglio ancora della sua costituzione, lo stress si può stare a manifestare a livello più psicologico e nervoso o più organico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ad un certo livello di stress si potrà manifestare in alcuni soggetti una malattia psicosomatica, questo lo vedremo più facilmente per esempio nei soggetti melanconici e nei soggetti flemmatici e così via. In alcuni altri soggetti, per esempio come i soggetti biliari e così via, si potrebbero manifestare più disturbi tipo neurotici. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che più il soggetto si esprime sul piano nervoso, anche in maniera delle volte molto penosa per chi sta incontro intorno, più o meno ha manifestazione a livello fisico. Quindi vuol dire anche questo sfogarsi, trovare un modo di sfogare. Sicuramente è meglio sempre non sfogarsi con delle scenate tipo neurotico, ma sfogarsi magari con lo sport, però sapere che sfogando su un piano alleggerisci l'altro piano, sfogando sul piano nervoso alleggerisci il piano organico. Se poi arriviamo a dei livelli di stress ancora più elevati, troviamo da una parte poi le malattie psicosomatiche, quindi arriviamo a delle malattie da stress come abbiamo visto l'ulcera duodenale, l'arretto crutulcerosa, il morbo di croce, sono proprio malattie legate allo stress organiche importanti, oppure ci sono i disturbi psicotici. A un certo punto il soggetto esce dalla realtà, diventa un neurotico, diventa uno psicotico. Quindi uno psicotico è un soggetto gravemente affetto a livello di sistema nervoso e deve essere curato con degli psicofarmaci anche molto pesanti. Quindi capito? E qui non saprei se è meglio che lo stress mi crei una psicosi o una malattia psicosomatica. Nessuna delle due è molto buona, cerchiamo di non arrivare a quei livelli di stress naturalmente. Sono due aspetti, da una parte abbiamo la repressione e la negazione dello stress che li porta alla malattia psicosomatica, dall'altra abbiamo la proiezione e lo spostamento dello stress che li porta alla malattia psicologica, alla malattia mentale. Ecco, naturalmente quello facciamo nel caso che ci sia una manifestazione somatica dello stress fisica, dovremmo ricorrere a farmaci di terreno, a vitamine, a farmaci di sblocco, dobbiamo fare in modo che l'individuo esprima, esprima il suo stress, lo butti fuori e non lo manifesti con un'autoggressione in terra su un organo o su un suo organo. E invece nel caso che lo stress si manifesti a livello psicologico, dobbiamo dare dei farmaci di contenimento dello stress, in modo che questo stress non si manifesti in maniera grave. Adesso faccio un esempio, può essere il litio come oligoelemento, invece che usare mai il litio carbonato, però per esempio il litio come oligoelemento tende ad arginare una delle manifestazioni più frequenti che lo stress a livello psicologico che è la sindrome bipolare. Quindi ci sono degli elementi, mentre nell'altro caso vediamo che la vitamina C, la lisina e così via potranno aiutare molto nell'arginare le malattie organiche da stress. Naturalmente poi vedremo poi negli incontri successivi come lo stress sia diversissimo in razionalità. Il bambino piccolo manifesterà lo stress a livello cutaneo, l'eczema è una manifestazione cutanea dello stress che spesso vediamo nei bambini. La pelle ha la stessa origine del sistema nervoso, quindi la pelle è sede di manifestazione dello stress. Il bambino più grandicello, dopo i 7-8 anni, manifesterà il suo stress a livello linfatico con un ingrossamento delle tonsille, delle adenoidi, ammalandosi frequentemente su questi organi. Quando poi superiamo i 14 anni dopo la pubertà, lo stress si manifesterà magari con degli squibbi ormonali che possono determinare problemi a livello mestruale o problemi a livello cutaneo e così via. Quindi attenzione che tante volte noi non individuiamo questo stress della fanciulla pubere o nel ragazzo e lì si potrà andare da malattie come la tiroidite autoimmune o a malattie come l'anoressia, quindi malattie dico organiche e psicologiche che sono in realtà originate da uno stress che noi abbiamo scoperto, uno stress che molto spesso origine nelle problematiche della famiglia. Questo è chiaro, anche se molto spesso noi diciamo, beh, alla dismenorrea, alle manifestazioni dell'oro, diamo la partiglia. Sì, no, ma questo è uno dei segni che c'è uno squilibrio ormonale che poi determina dei sintomi da stress. E poi andando avanti ancora troveremo che nel soggetto di 25-30 anni la tipica manifestazione del stress è la gastrite, la duodenite, l'ulcia duodenale, l'esofagite. E poi andando avanti ancora nell'età più avanzata la manifestazione dello stress è proprio la sregolazione dei sistemi dell'organismo e si potrà manifestare anche una malattia grave, anche un tumore, una malattia autoimmune che è derivata da questo. Quindi ogni età ha la sua problematica legata allo stress. Noi vedremo nelle prossimi incontri queste specifiche manifestazioni dello stress nelle diverse età e proporremo anche, come sempre, delle soluzioni. L'importante adesso è almeno aver riconosciuto questo, quella allora la pillola di oggi, qual è la... con cosa andiamo a casa oggi dopo aver perso questi minuti insieme. Andiamo a casa con questo concetto di lo stress che si manifesta che da qualche parte deve uscire sul piano fisico o sul piano psicologico. Quindi vuol dire che dobbiamo, se si manifesta sul piano organico, è grave sostanzialmente e lì dobbiamo praticare lo sport eccetera eccetera, dobbiamo fare in modo che emerga dall'inconscio qual è il conflitto e se si manifesta sul piano psicologico dobbiamo anche lavorare perché questa fuoriuscita dello stress sia non tumultuosa ma sia costruttiva, rappresenta una comprensione profonda e una rielaborazione dei problemi dell'individuo. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.